Sergio, partiamo dal risultato e da quello che è successo questa sera, 90 minuti alla fine del campionato, la Reggiana c'è, il campionato non è finito, potete ancora vincere? Sì, assolutamente sì, è quello che ci siamo detti in questi giorni, nonostante qualche passo falso che è rifatto nelle precedenti settimane, per il quale ancora abbiamo un grillo in testa, però ci proviamo fino alla fine, ne vale la pena perché siamo forti, stiamo bene, quindi assolutamente ce ne metteremo tutta. A differenza delle altre settimane abbiamo cercato di non informarci sul risultato, poi è venuto fuori dall'ultimo secondo prima di uscire proprio dagli spogliatoi, quindi può darsi sia stato anche quello, però avevamo già di nostro la motivazione giusta per portare a casa il risultato, come cerchiamo di fare ogni settimana. Secondo me è positivo, abbiamo avuto da fare anche dietro rispetto anche ad altre partite in cui abbiamo giocato a 5 e da 5, appunto, perché loro giocavano molto su queste lungolinea per mettere in difficoltà i nostri terzi, quindi ero un po' stretto a fare 60-70 metri indietro e poi ripartire in contropiede, quindi penso di essermi comportato bene. Ecco, ora si va a Teramo, una partita con un solo risultato a disposizione, tutti i campionati nei già vinti, come si giocano queste partite? Si giocano pensando all'obiettivo, cioè andando avanti, anche se può essere tardi, qualcuno può pensare che sia tardi, ma assolutamente bisogna crederci, assolutamente, fino alla fine.